Vabbè ve lo dico così, siete ancora in tempo per prendere i biglietti al Games Week e in particolare se avete più di 18 anni, facciamo 18 ma vorrei fare più di 20, che tanto so che qui in mezzo ce ne sono parecchi, ho intenzione a fine giornata di ogni giorno del Games Week di fare mega gruppone e si va a bere una birra insieme a fine fiera. Vedete voi quello che dovete fare, cercherò di offrire quante più birre possibili ovviamente se vi presentate in, so vabbè avete capito, a posto. Se trovi un inglese nei prossimi tre sono cinque sub. Mire, da oggi nostro figlio non è più mantenuto, gli hanno regalato 32 abbonamenti, c'è qualcuno che se lo tiene mi? Basta, andiamo avanti. Ciao. Ciao a chi? Ascolta però solo dirti una cosa, se per caso non becco quello che voi pensate, scende al mio, non divento più. Devi regalarle tu. No. Io voglio diventare Potman. Così il Potman dei rimasti, bro. Spero di aver fatto vincere qualcuno. Le luci vanno fino al fondo, attaccante, urguaiano, gioca nella riga, Recova, che cazzo ne so, è forte, Cavani? No, Cavani non gioca più nella riga. Questo è buono, eh. Forlan! 90 di tiro! Ma che culo c'ha? È buono. È andato benissimo. Ma non è tuo, vero? L'ho regalato a qualcuno. Sì, l'hai regalato a qualcuno. Ma non a te. Allora a qualcuno, sono contento. Pensa se mettevo questo, cosa veniva fuori? No, perché poi c'è... Bruno, non iniziare a fare gesti che li chiamano di un periodo storico, che ti batti sul petto, che inizia a stare rigido, così. Sei dell'88, di quanti anni ha? Perché c'è scritto Vince 88, non penso che siano i centimi. Si, ma non è affari suoi. Ma sei dell'88, quanti anni ha? Potrebbe essere un numero a casa, cioè... C'è anche Job 495, capito? Ma quello è il prefisso di casa sua. È a 36, infatti. È a 36, ma... Bruno. Vado? È lui! Inglese. No, no, Vince è già aperto. Vai. Le luci vanno fino al fondo. Attaccante. Tedesco. Close. Bundesliga. Va di una volta o di adesso? Eh, dipende. Questo simbolo vuol dire che è forte. Gomez! Scorso che non hai fiori di tiro. Ma non puoi casarti per Gomez. 90. 90 di tiro. Vuol dire che quando ti avanti a una porta... Perdonalo, perdonalo, Tommy. Perdonalo. Ma un cazzo, Bruno. Un po' di soldi glielo ho regalato. Quanto vale? Ma non gli hai regalato un cazzo, Bruno. Un po' di soldi. Vado a dire, me lo spacco il dito. Scusa, Tommy, ma io ho più che schiacciare i pulsanti. Stai già andando fuori i giri, eh, Bruno. Eh, lo so. Ti prego, Bruno. Ti prego. Non serve rispondere a un pacchetto di un gioco. Non serve... Però stavolta c'è il colore rosso. Prima era blu qui. Come mai? Vuol dire che stiamo per trovare un... 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 Boh. Le luci... Questo è il Dottor Bavaro, ragazzi. Ma il giocatore è sempre uguale. Cock. Statunitense. Muls. È un disastro. Questo è un disastro. Questo secondo me non te lo ricordo. Però questo disegno porta bene. È sempre lo stesso. Oh, questo è Donovan, uno dei più forti giocatori... Drillblattori. Ma mai affanculo. Dai, dai, fatemi prenderli. Voglio parlare di un disastro, bro. Un lagature. Eh, oggi è esagerato con le dosi, Smania. Pensavo fosse farina, ma... Puoi cambiare la vita di molti ragazzi che ci stanno seguendo. Sì, ho capito, ma se lo schiacciassi tu viene lo stesso Donovan, giusto? No, non è detto. Tu lo fai portare la colpa a me. Butterfly Effect, Bruno. Magari tu lo schiacci mezzo secondo prima di me. Ah, loro stanno facendo girare una grande ruota della fortuna. Bravo. Tu schiacci, c'hai mille Donovan e uno... Ma poi a volte si mette a parlare con le maglie. Due gol di sinistro. Completamente a pe... Pensa se avessi tirato di destro. Due gol di sinistro. Questo è degli anni tuoi? Negri. C'è travanti del Perugia. Quello è negri. No, terzino sinistro della... No, 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 no. Tu mi hai fatto vedere i negri, i tuoi tempi miei. Sì, sì, a posto. Sì, a posto. Col barbone, capelli lunghi, ma se c'è il nostro amico... A posto, a posto, a posto, a posto. Io ho al tuo amico... Liro. Questo dito sono mesi che non me lo lavo, eh. Le luci vanno fino al fondo. L'hai fatto, Bruno? È inglese! Ho vinto. È inglese! Ma che sia uno forte, un esterno destro, uno che salta l'uomo. È una merda, ma è inglese, va bene lo stesso. Ma che sia forte. L'ho fatto. McManaman, ex Liverpool dribblatore alla destra, fortissimo. Questo compralo tu, ma ti dagli tu i soldi. Un bravissimo, un talento, eh. Poi hai dato anche la Madrida. Tu quello che dovevi fare l'hai fatto. L'hai fatto anche la Madrida con Beckham. McManaman. Ma vero? Giocava con me? Sì, giù, giù, l'ho dato che era in Madrida. Comunque Beckham, McManaman, se erano... È fortissimo, vengono anche sua mamma. Perché, va bene, ne hai regalate davvero cinque. Io se qui avessi delle magliette da spedire, le manderei. Se esce un europeo, domani lavi piatti. Che da noi qua a casa nostra c'è una festa. Va bene. Ok, se tu lavi i piatti, ti prendo col telefono, fai il contenuto, io pago cinque sub. Ma tu lavi i piatti, però. Eh, cosa devo fare? Devi schiacciare la X, Bruno. Ho questo dito qua. Ecco, di... No. Chiedi scusa. Chiedi scusa e ci dai giocatore. No, vai. Scusa. Andata. È un giocatore spagnolo, di sicuro. No, comunque tutte le frecce vanno fino al... Non è europeo, Bruno, mi dispiace. No, aspetta, gioca nel MSR, magari è europeo. Non è europeo. C'ha la doppia passaporta. Non è europeo. Non è decisamente europeo. Ma Bersley è uno dei giocatori più veloci che abbia mai visto. Guarda che questo qui è velocissimo. Forse addirittura era nel settore giovanile del Manchester United Bersley, Bersley. Ma lo sai davvero, Gheggy? Sì, no, no, veramente. Non è di adesso Bersley. Manchester City. Ascolti, non è che schiaccio a cazzo. Mi devi prima dire che cosa devo trovare. Devi solo trovare Yaya Toure. Bruno, troppa preparazione, Bruno. È un pacchetto di un gioco. Ne dobbiamo aprire a migliaia. Qua ne va delle sorti di qualcuno dei miei amici. Forse per te schiaccierei a cazzo, capisci? Che Yaya sia con te. Hai schiacciato? Vai, no. Non lo fare. Non ti permettere. Vai. Yaya. Che bandiera deve venire fuori? Le luci vanno fino a... Credo in Indonesia. Portiere. Messicano. Campos. Dai, andiamo avanti. Lo sai pure tu. Ma nelle MSLS? Lo sai pure tu, Bruno. Campos. Però era bravo. Lo sapeva già. Campos era bravo. Ma scusa, perché scrivo un MLS? Perché ha giocato magari... Ha giocato? Ha avuto il suo prime. Ha giocato in nazionale e usciva col pallone dalla porta. E gli ha regalato qualche soldo al mio amico. No, credo ti stia odiando con tutto se stesso. Scusa, ma comunque... SLS. Prima di schiacciare il possante lui aveva già il dito sopra. Vai, Umbò. E lui porta quella sfiga del momento. Nino porto sfiga... Beh, boh, probabile sì, non lo so. Ma com'era Campos? Bravo. Portiere mezzo matto, piccolino, in un'epoca... Argentino. Argentino Serie A, Higuain. Ma Serie A di tutti i tempi. Non può essere battistuta. Milito, porca puttana. Scusate. E questo che mi dici? Liga, centrocampista. Spagnolo, Rodri. Forte Gutti, Real Madrid. Un talento che questo mancino. Forte, forte questo. Lui è redondo, erano giocatori simili. Come cazzo fai a saperli tutti? Ma Mattio, tu perché cazzo fai bella figura qui in monitor? Hai mai studiato un cazzo? Te l'ho trasmesso io con i geni. Io so tutto di calcio, Mattia. La mia passione. Capisci? Io posso solo parlare con Tony Modestino, non con Gentaglia come te. Tra l'altro fateci caso, ragazzi. Ogni volta che c'è un giocatore, è il più forte giocatore di sempre. No, è che questo gioco seleziona solo giocatori forti. Certo non ti selezionerai mai, che cazzo ne so, il Pampasosa. Bruno e il football smaria. Bars, Liverpool. Giocatore straordinario questo. Veramente, nella sua epoca... Sta morendo. Pantissimo. Liverpool, che cazzo ti hanno messo la maglia del Manchester, stai rivoltando... Se si vede era solo, si puta sul monitor. Giocatore bravissimo questo qui, potentissimo. Cazzo di malato. Tipo, tipo, tipo quello portoghese di molti anni prima. Barca avrà 45-50 anni adesso. No, un po' di più. Avrà la mia... Vediamo. Più di 50 anni. Cock, centrocampista centro... Arabo? No, questi non li conosco. Sono solo al waran, là, quello che giocavi tu. Non li conosco. Noor, no, no. Noor vuol dire no, in arabo. Non lo conosco. No, non so chi sia. Sarà sicuramente forte. Se tu trovi bello... Mi chavierà pure? Lo giuri prima? Se lo trovi in mia... Blank? Lavi piatti per dieci giorni. E senza lavastoviglie, è proprio... Tegnatevi questa, eh. Che il suo braccio sinistro e il destro, per altri motivi sì, non conosce l'olio di gomito. Devo schiacciare? Vai. Un'altra volta? Perché? E a volte... Eh no, due volte non è la stessa cosa, eh. Le luci vanno fino al fondo, quindi è sicuramente uno... Difensore centrale, inglese. Quello lì che fa il commentatore adesso. Del Manchester United, che non mi ricordo. Ma come cazzo fai a saperli tutti, Bru? No, questo qui è Caraga. Caraga non fa il commentatore, ma io non tendo questo. Ma ragazzi, ma è impraticabile. Non lo intendevo questo qui. Anche questo fa cosa. No, è lui che fa il commentatore. No, l'altro forte, che non mi ricordo. Ferdinand? Ferdinand, quello era... Tre tifosi. Questo qui ha fatto una buona carriera del Liverpool. Vai, stè. Questo mica giocava nel match, giocava nel Liverpool, Caraga. È il più famoso adesso che dice delle puttanate alla Cassano per televisione, che... Per come giocava. Distrutto disintegrato Caraga, poi. Una carriera buttata nella pattumiera. Caraga era veramente una pippa, eh. Boh. Le luci vanno fino al fondo. Quello che cammina è uguale per tutti. Kok. Olandese. Qui vengono fuori i nomi, eh. Potrebbe essere Rijkaard. No? Non c'è Rijkaard. Che tempo. O Gullit. Ah, Gullit. Liverpool. PS... PSV in Do... No, no, non giocava nel PSV in Dover. Di certo non nell'Ajax. Nel Feyenoord giocava questo qui. Un sacco di gol fatto. Attaccante, Liverpool. Giocava con il... Sì. A sinistra, ma era un destro. Fortissimo questo. Feyenoord Utrecht. Feyenoord. Perché mi hai detto, l'ho detto io, che non era... Perché io gli olandesi li divido in quelli che giocano nell'Ajax e in tutte le altre squadre. Sì, quindi in quelli... E' eccitato per questa icona, Bruno. Giocava nell'Inter l'anno scorso, Don. Adesso è nato a Paris Saint-Germain e roba del genere. Come giocava nell'Inter? All'accante. Una velocissima. L'ho vista giocare l'anno scorso e ho detto, che forte. Sì, c'è stata una chao winga che è andata al Paris Saint-Germain. Alla sinistra dell'Inter l'anno scorso. Cioè, tu sei pure le carriere delle donne. Guardate che il campionato delle donne è molto migliorato. È bello da vedere. Non senti più mia. E la palla che salta in 5. Adesso giocano bene. Questo si è al campionato. Non è un piacere vedere giocare a calcio femminile. Pacchetto icona nel mio account, aperto da Bruno. La ciliegina sulla torta di una serata fortemente positiva, speriamo. Bellucci vanno fino al fondo. Commento io. Cammina. Potrebbe essere Ronaldinho. No, 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 no. Uruguay. Suarez. Cavani. Argentine. Crespo. Baciami. Nazionale Argentina. Ha giocato anche nel Chelsea. Tanta, tanta, tanta roba. Hernán Crespo. No, Matti, veramente, eh. Centravanti potente ma leggero. Veloce ma driblomane. Cioè, questo lo aveva veramente tutte. 36 di difesa perché sei un coglione se lo fai giocare il difensore centrale. Fisico 70. Velocità tiro. Questo ti risolve le partite. Hernán Crespo. Ma, ragazzi, ma stiamo scherzando? Hernán il calcio Crespo. No, ma ragazzi, seriamente. Crespo è fortissimo. Ma tu guardi soltanto se hanno il 90. Questo qui poi diventa Pokémon. Questo è fortissimo. Adesso fa il mister. E ha giocato in Argentina nel River Plate o nei rivali del Boca. Dove è cresciuto? Perché qui, come dire, Inter e Milan. Boca, boca, lui. Mattia, non capisci un cazzo. Un cazzo. Il 50%. È del River Plate. Questo qui, se gli parli del Boca, si incazza. Cioè, come nasce nel Milan e vai a giocare nell'Inter. È capitato soltanto a Darmian. Bruno Foti. Fascist of the year. Oddio, oddio, oddio. Per difendere la mia scelta. Oddio, oddio. Se qui ci fossero stati i draft. Oddio, ragazzi, il video del giorno. Abbiamo il video del secolo. Se tu avessi fatto i draft, io ti avrei preso Crespo. Che cazzo vuol dire? I draft sono i sorteggi, no? Che poi sei scarso e prendi il giocatore forte. Tu sei l'ultimo della cosa. Ti danno a disposizione tutto il roster. E io ti avrei preso Crespo. Da papà ti avrei preso Crespo. Non si infortuna mai. Colpisce forte. Ma non funziona così, Bruno. È un giocatore strepito. Ma c'è qualcuno del Milan qui che può confermare? Cioè, è furtissimo Crespo. Guarda che con Crespo vincevano 3-0 in finale con Liverpool. Hanno fatto 3-3. Ucraino, Shevchenko. Tanta roba. Oh, ma qua ci sono solo giocatori del Milan. Shevchenko, non ce ne sono altri giocatori nell'Ucraina, della storia. Shevchenko, 88. Molto bravo, eh? Ma? Molto bravo. Ma? Ma ci ha fatto perdere una finale, diciamolo. Ci ha distrutto. Mattia, ma come si fa a criticare a Shevchenko, ragazzi? Ragazzoni, abbiamo decisamente dato. Chiudiamo questa stream per oggi. Ci vediamo domani con i soliti orari, che è martedì. Non so bene cosa faremo, ma qualcosina ci inventeremo. Grazie per la compagnia. Ci abbiamo fatto un po' di tutto in queste due ore. Sono contento di aver streamato un po'. Vi si vuole bene. Grazie a tutti quanti.